Tra i numerosi popoli che i romani consideravano barbari, cioè stranieri, si distinguevano le genti di stirpe germanica insediate nella vasta area situata tra il Baltico a nord e il Mar Nero a sud. I principali gruppi etnici erano costituiti dagli alemanni stanziati in Germania, dai franchi nei pressi del Reno, dai sassoni presenti nella Germania settentrionale, dai goti divisi in ostrogoti e visigoti. Tra il III e il IV secolo questi popoli avevano abbandonato il nomadismo per dedicarsi all'agricoltura e all'allevamento. La loro organizzazione sociale era molto semplice. La comunità, divisa in clan o gruppi familiari estesi legati da vincoli di parentela, era guidata da un'assemblea di guerrieri e da un capo militare. Fino alla fine del IV secolo d.C. i romani riuscirono a evitare che le frequenti incursioni di questi popoli si trasformassero in vere e proprie invasioni sostanzialmente in due modi. Da una parte, essi rafforzarono la difesa dei confini, impiegandovi gran parte dell'esercito. Dall'altra, cercarono di neutralizzare la minaccia dei barbari, arruolandoli nell'esercito e permettendo loro di stanziarsi nei territori particolarmente esposti agli attacchi per garantirne la difesa. Questo rapporto di sostanziale equilibrio entrò in crisi intorno agli inizi del V secolo d.C., quando gli Unni, un popolo nomade di stirpe mongola, proveniente dall'Asia, irruppe nella Russia sud-occidentale. Qui giunse a contatto con alani, vandali e goti, innescando una serie di spostamenti a catena.